Buongiorno, sapete che io ho sempre preferito ad un certo punto della mia vita parlare poco dell'esempio, parlare il giusto, la parola è poca, le due sono troppe. Allora succede, mi è successo tempo fa, poco tempo fa, di dover, di voler così passare una bellissima serata in compagnia, non siate maliziosi, non c'è stata malizia, quindi assolutamente friends by friends e spiegare un po' e esemplificare quello che è il karma, ovvero sei da due, tre, quattro ore che parli, dialoghi con una persona, quindi due persone che colloquiano si espongono i vari problemi, le problematiche, i vissuti, nomini delle persone, racconti dei fatti successi della tua vita, del perché magari ti hanno portato a determinate situazioni o traumi o delusioni o amarezze e poi durante l'arco della giornata, della settimana o del mese le persone ne appaiono, le trovi, le becchi, chi è sparito da una vita, le becchi perché il karma, quindi un episodio ve lo voglio raccontare così, a questa mia carissima principessa degli elfi raccontai un fatto di un successo quando ero in comunità, in quei giorni precedenti, e questo succede almeno 30 anni fa, quando ero in comunità, creiamo un recital eccetera, e alla stazione qui di Pinerolo, dopo così del nulla una macchina posteggia e scende questa persona, questo che aveva fatto la comunità con me, lui si è stupito di vedermi lì, era lì per caso e io come l'ho visto non ero per nulla stupito, mi è stupito il fatto che dalla ghigna sembrava un digossino, ho detto e poi così, e quando poi con questa amica che ha capito la situazione, ho detto questa è la persona che ti parlavo, questi sono gli incontri dove io comunque amo fare socialità, amo dare una certa testimonianza della mia vita, ovvero che per quanto sia contestabile, opinabile nelle scelte eccetera, non è questo che mi fa andare fuori di testa, oppure semplicemente alle persone, questa persona dissi che se io non avessi questo tenore di vista, questa capacità reattiva, questo occhio lungo ma anche vigile, io sarei in un repartino pieno di benzodiazepine, ho infottato chi sa quale pillola, o c'è la gente che mi dice ma chi cazzo te lo fa fare, sta lì a fare il sermone ai ragazzini, io non faccio il sermone a nessuno, sono più minorenne, forse di minorenni, sono un po' minorato, fra gruppi con cui ci si ritrova si passano anche dell'intero pomeriggio a parlare di cose seri, profonde, a confrontarci sulle problematiche, certo che da parte mia è difficile far comprendere determinate situazioni a un 25enne, è chiaro, ma non sono loro a dover capire me, e capitemi in questo globo, è una cosa poi ciclica, io do semplicemente una narrazione di ciò che può cadere nella vita anche facendo delle scelte sbagliate, quando sei al bivio e dici cazzo quale delle due, vabbè quella è la più veloce, la più comoda, oggi ho imparato che quella ti fotte, quella dove non c'è conquista, dove non c'è, ci sono voluto arrivare io e vi annuncio una news, la mia vita è cambiata notevolmente, sono molto più sereno, pacifico, sto raggiungendo degli obiettivi in breve tempo, ma coi tempi giusti, quindi vi annuncio anche poi un prossimo imminente squat con l'intento di creare un centro di aggregazione per fare musica, registrare, una sorta di studio di registrazione, sala prove, una cosa del genere. Per chi fosse interessato, c'è una dura selezione a questo giro, sai, il Toxic House ho visto che portano a poco, e così anche le piccole regole, ho detto regole, sì, che se non vengono comunque rispettate da subito, ma non ci devono nemmeno essere scritte, dura poco gli stessi, quindi, Peace and love to everybody, stay in tune if you want to follow my story.